Questo è bellissimo perché è brutto forte, è brutto forte, guarda che roba. E' un omaggio che finisce di dare a lui a Roberto Smadea a fare una città di Moris. E' un luogo normale diciamo, non è luogo da una città di latta. Va bene, va bene. Poi c'è un pezzo di latta che è bianca. Un amico sono riusciti a realizzare il terzo ato della Landai. Su questo campo magnifico di mais, via Volto, angolo via Monteverdi. Il terzo ato è un omaggio al colore, è un omaggio alla bellezza, alla normalità. Ritorno all'infanzia. Questi due balli di film con questo personaggio, chiamami Arturo. Sì, va benissimo Arturo, pure un nome normale, un po' come tutti noi, è l'elogio della normalità. Grazie a tutti. Poi il nostro Roberto Smadea ci racconterà il punto di vista. Siamo divertiti, un'altra bella nota di colore per la città. Lo chiameremo Arturo, è una persona normale, lontano dagli stereotipi della bellezza. Vive tutti i giorni, fatica tutti i giorni come noi. Speriamo che dia un bel riscontro a tutta la mozza, contro l'indifferenza, cercando di essere sempre più altruisti. Ciao a tutti. Grazie. Grazie.